Dottor Bacchelli, voi nella relazione che consegnate oggi in questa conferenza stampa parlate già che il deposito sarà ubicato in Agro di Manfredonia. Ne avete certezza? Allora, dalle carte presentate al Ministero Sviluppo Economico e presso la Regione Puglia si vede che il progetto rientra nell'area abitata di Sipondo, dista circa due chilometri proprio dal villaggio di Sipondo e quasi quindi entra nella città di Manfredonia perché Sipondo è insieme a Manfredonia un unico abitato. Sicuramente il progetto è uno dei progetti più grandi d'Europa ed è stato collocato impropriamente, secondo noi, in un'area sensibile sia dal punto di vista ambientale sia dal punto di vista sismico. Noi abbiamo dato parere sfavorevole per quanto riguarda questo impianto che, a parte le dimensioni che sono grandissime, poi la pericolosità che c'è per questo tipo di impianto non vorremmo che succedesse la stessa cosa con la TAP che, insomma, non è che possiamo diventare il nostro territorio un gasdotto ovunque penso, insomma, che la politica si debba preoccupare più di farla diventare la grande bellezza, non una grande schifezza. Quindi un appello anche a Emiliano, alla Regione e al Presidente Costa, insomma, di far sì che questo impianto non venga fatto e viene sottaciuta la cosa. grazie a tutti.